il side club rookie al beat the clock al vibe con diego purple lips che ci dirà secondo lui come la vedi questa come la vedi questa pesta davvero molto bene la gente è carica era previsto questo flusso forse anche un po meno davvero molto carica la serata senti è la prima volta che suonare qua al vibe si è la prima volta sono amico di daniele bruno e giovanni sono le basi di questo locale e da un'amicizia è nata anche questa cosa di collaborare per una questione musicale perché poi tu vieni da un altro genere rispetto all'ausola vieni dalla tecno io vengo dalla tecno il problema pari della toscana che la tecno un po più pesante va solo in determinati locali e la provincia di pisa non è un punto forte per quella tecno meglio fare roba un po più leggera sempre con stile da quando è che ti avvicini all'aus? allora io ho iniziato con l'aus nel 2007 poi mi sono più appassionato della tecno e ora diciamo ho fatto un subrogato della tecno se si vuole chiamare che ha una influente tecno ma con ritmi due house il genere che fai adesso come si potrebbe definire? una tec house con influente però dark che provengono dalla crepe allora ti ringraziamo e poi ti aspettiamo sui piatti per sentire il tuo sentimento a dopo grazie grazie vibe e a dopo grazie a tutti 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 non stop grazie a tutti 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 grazie a tutti